Musica Forse ci avremmo addirittura messo la firma se ce l'avessero detto prima Alla fine forse un po' di rammarico perché si poteva magari provare qualcosa di più nel quarto set Che partita è stata? È stata una partita dettata dalla gestione degli errori in attacco e della capacità offensiva della battuta Da tutte e due le parti Perché quando il Club Italia ha spinto sia con la battuta che con l'attacco è stato complicato gestirle Infatti gli strappi dei set sono caratterizzati o dalla buona battuta loro o dall'ottimo attacco loro Noi abbiamo fatto una buona, secondo me una buona gara per le condizioni in cui siamo Gestendo molto bene gli attaccanti, Cidera probabilmente ha fatto la miglior partita tattica che gli ho visto fare da qui a che lavoriamo Cidera per gli nostri ascoltatori è il nostro palleggio Sì è la palleggiatrice Un'ottima prova prima di sacrificio e poi di coraggio di Rossini nel nuovo ruolo di opposto Bravi tutte perché tutte sono andate in doppia cifra contro una squadra che comunque muro è fastidioso Sono state brave tutte, sono contento dei due punti presi Un paio di settimane fa non eravamo in grado di arrivare al quinto set Questa volta il quinto set abbiamo tirato fuori carattere, grinta ma anche condizioni atletiche Sì abbiamo ritrovato la condizione atletica, questo era quello che stavo per dire Stiamo bene fisicamente, reattivi, esplosivi quindi sono contento del lavoro che abbiamo fatto Abbiamo ripreso l'atleticità che avevamo quando avevamo quel trend positivo a inizio dicembre E questa partita è un buon viatico per l'ultima trasferta che andiamo a fare in un campo molto difficile come quello di Soverato Soverato è un campo molto complicato perché il pubblico è caliente e è una squadra che in casa si esalta Vediamo, spero di ripetere almeno questa prestazione Io credo che il pubblico oggi si sia divertito, credo che abbia visto anche dei momenti di bella pallavolo Io credo di sì perché ci sono stati dei momenti di grandissimo pallavolo E che, vabbè, io parlo per la squadra nostra e che se noi riuscissimo a dare continuità a certi picchi Che mettiamo in campo e ovviamente saremo una squadra di un'altra posizione in classifica, un altro livello proprio Evidentemente qualcosa di inesperienza noi la pagheremo sempre Con queste fasce d'età qui la pagheremo sempre Quindi fa parte del conto delle spese E l'augurio è quello solito di iniziare il percorso di due o tre anni che stanno lì a Club Italia in un modo E finirlo con qualcosa di completamente diverso Beh, certo E adesso che hai parlato della tua, due parole su Vicenza Te l'aspettavi così? Beh, oggi credo che abbiano fatto una grande partita Una grande partita Probabilmente Probabilmente la loro Diciamo maggiore abitudine nella competizione Fa sì che quando Vedono il morbido Il sangue agli occhi fa aumentare C'è successo C'è successo con Vicenza oggi Per merito di Vicenza C'è successo contro Catania per merito di Catania C'è successo contro Martignacco per merito di Martignacco E quindi Quando c'è un po' di abitudine alla competizione La competizione fa venire il sangue agli occhi Quindi E quindi sono state bravissime a fare questo Ma anche brave tecnicamente Perché Boh, adesso io ho memoria di due set Dove hanno fatto in uno, due, uno, tre errori Quindi non è che dici Una squadra che ha preso i rischi Che ha preso le sue responsabilità E che Alla fine ha chiuso Con Un buon risultato E pochissimi errori Sapevamo fosse una partita difficile Appunto Loro venivano da partite vinte Addirittura anche con le big Di questo campionato Sono state I primi due set Sono state molto brave noi A essere lucide Sicuramente anche loro Un pochettino sotto tono Ma noi pulite nelle nostre cose Poi loro sono cresciute Ma dobbiamo essere soddisfatti Di questo risultato Perché loro erano una squadra Veramente complicata Quindi brave, brave Beh Visto che fino a un paio di settimane fa Non eravamo in grado di reggere Più di tre set Vincere al quinto Contro questo Club Italia È un punto di merito Anche sulla ripresa Atletica della squadra Assolutamente sì Venivamo da quel set Lasciato a Como No? Quindi con quel 3 a 2 Ce lo si è ripreso oggi E fisicamente si vede Stiamo tornando Stiamo tornando E stiamo crescendo Secondo me di più adesso E quindi che dire Sono tanto contenta Bene E questo che sia un buon viatico Perché adesso ci aspetta L'ultima partita della regola season Una trasferta altrettanto complicata Contro Soverato Sì Lì sarà Sarà veramente tosta Anche perché il palazzetto Lo conosco molto bene E anche quello non aiuta Loro sono Stanno facendo bene Sono una squadra Che lavora bene Però noi sicuramente Anche con questo entusiasmo Che con questa vittoria Faremo il nostro